ciao a tutti bentrovati sul mio canale il mio bel gruzzoletto nuovo acquisto da perline bijou dal sito perline bijou vi lascerò il link nell'info box ovviamente e ora vi farò vedere nello specifico che cosa ho preso guardate quante cosine ho preso delle cose favolose tutte in svaroski tolgo tutto e vi faccio vedere uno iniziamo con il mostrarvi gli omaggi che mi ha mandato queste belle perlozze giganti faccio molto veloce qui abbiamo dei mezzi cristalli in questo colore bellissimo sempre mezzi cristalli più grandi le misure scusate ma adesso al volo così non vi so dire e questo per fare il sutash che non faccio però è sempre comodo magari per fare e faccio una collanina questi sono gli omaggi che mi ha mandato il sito ringrazio ora vi mostro le perline un po più particolari anche nuove ho ripreso delle drop duo di questo colore bellissime bellissime drop duo anche qui drop duo in questo bellissimo lava red ho voluto fare subito il video prima che poi tiro tutto fuori dalle bustine e non si capisce più nulla qui abbiamo le storm duo le ho prese in calc white champagne luster sempre drop duo ho preso anche questo colore bianco calc white anche qui ho preso sempre drop duo di questo colore ok e queste sono le ultime drop duo anche queste mi piacevano iris zinc iris mi piacciono molto queste perline come le quasi come le super 2 non voglio esagerarla perline swarovski adesso farò tutta una carrellata di perline swarovski faccio veloce perché altrimenti durerà un infinità 20 pezzi di questo colore bellissimo 3 mm questo è il codice li ho presi anche in questo colore 20 pezzi questo bellissimo blu fantastico mi piace da morire questo blu veramente bello belli belli poi questo azzurro fantastico che conoscerete benissimo questo è il codice da 3 mm poi li ho presi da 4 mm erano in sconto c'era una promozione in sconto fierivoli svaroschi e le perle ho allora approfittato 20 pezzi sempre di questo colore da 4 mm quest'altro colore che vi ho fatto anche vedere da 3 mm bellissimi guardate questo azzurro è fantastico questo pure mi piace veramente tanto ah non vi ho fatto vedere i codici scusatemi questi coli blu questo è il codice questo è il codice di questi azzurri questo bellissimo azzurro riflettente a lilla non so comunque è fantastico questo verde con il dorato bellissimo poi ho provato per la prima volta a prendere questi bianchi mi piacciono tantissimo questi bianchi veramente belli 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 vedete come sono statinati con questa perlescenza non so tipo madre perla bellissimo questo è il codice questi li avevo presi già li ho ripresi questi questi questo colore fantastico ok questo è il codice poi vi faccio vedere le ultime perle da 6 mm questo per errore questo mi è scappato per errore proprio color perla siccome la perla in generale la troviamo questo colore in giro però vabbè ho preso per sbaglio ma va bene lo stesso sono bellissime anche qui 24 pezzi questo bellissimo color non so mocca d'affè come chiamarlo questo marrone bellissimo bellissimo non le cazzo dalle bustine perché tanto questo colore anche mi piace da impazzire il codice ve l'ho fatto vedere questi marroni sì questo è il codice scusatemi io per la fretta questi bellissimi io questo colore lo amo molto mi piace veramente tanto riuscite a vederlo vediamo un po' se riesco a mettere a fuoco ok belli 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 adesso che vi faccio vedere i rivoli ho preso i nuovi rivoli della Svaroschke scusatemi ragazze non potete capire questi bianchi sempre a 6 mm mi piacciono tantissimo questo verde bello onestamente pensavo fossero quelli in verde con questi qui pensavo fossero questi invece no ho sbagliato vabbè questi li avevo già di un precedente acquisto poi questi blu quanto mi piacciono sono proprio belli 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 veramente belli stupendi ah ok pensavo fossero scorticate le perle non scherziamo questo è il codice ok e queste sono favolose ne ho prese 24 pezzi tanto sono belle queste perle bellissime ok questa è tutta la serie di perle ora passiamo agli Svaroschke ho preso da 12 mm e da 14 mm questo colore bellissimo bellissimo ragazze cioè non cioè vi rendete conto quanto sono belli e sono in busta eh guardate sono dentro la busta vediamo se li tiro fuori cioè no sono una cosa spettacolare io quando li ho visti stavo svenendo non voglio dire niente cioè io stavo svenendo guardate quanto sono belli 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 questi sono i nuovi colori della Svaroschke e il colore è questo questo è il codice anche qui ho preso una promo due venti viene singolarmente insomma c'era uno sconto ho pagato molto meno e qui ovviamente ne ho presi quattro se lasciamo in bustina poi 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 bellissimi questi magari no ragazze cioè veramente vi fanno uscire gli occhi di fuori non sto esagerando allora un attimo che tolgo questi così magari vanno a fuoco questi rivoli bellissimi no vabbè ve li devo zoomare così vanno a fuoco ok non voglio perdere altro tempo non rendono eh cioè in video ve lo dico non rendono ma dal vivo sono una cosa cioè spettacolare non potevo non prenderli io quando ho visto che erano in promozione tac subito li ho comprati questi ne vogliamo parlare che questi sono veramente cioè ragazze non potete capire cioè sono una cosa favolosa io li amo li amo li amo questi ocre delete delight delete fate voi come vi pare questo è il codice no vabbè sono bellissimi belli belli veramente belli belli ovviamente li ho presi anche da 12 mm in totale ne ho presi quattro per ogni colore questi sono sempre quelli di prima li rimetto qui poi anche questi li ho presi da 12 mm questi più piccolini ok adesso adesso vi faccio vedere l'altro colore un attimo che ce li ho tutti mischiati mamma mia che spettacolo io questi li terrò veramente gelosamente ma veramente cioè sarò gelosissima di questi rivoli e credo che non lo so farò solo per me le creazioni perché sono veramente cioè guardate che cosa sono questi pure questo è il colore burgundy no è la linea delit delite comunque si chiama così la linea degli svaroschi nuovi cioè bellissimi anche qui ho ripreso un'altra coppia e anche un attimo che le recupero dove sono quelli da 12 no? non sono uguali? sì burgundy ok ho presi anche quattro da 12 mm no ve le devo mettere a fuoco perché sono una cosa fantastica poi vi faccio vedere questo colore veramente bello si chiama army green cosa sono? ditemi 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 cosa sono ragazze e questo è army green che cosa sono? questo è il retro? cioè vabbè ragazze dal vivo le dovete vedere perché sono una cosa favolosa cioè sono veramente stupendi e questi come dicevo prima si chiamano army green e anche di questi ho preso un'altra coppia da 14 mm e altre due coppie da 12 mm senza che ve li apro ovviamente quelli da 12 perché tanto sono uguali quindi l'ultimo colore che vi voglio mostrare è questo quindi in totale sono 5 colorazioni nuove e ovviamente ho fatto le doppiette sia dei 14 che dei 14 che dei 12 e quest'altro è veramente una cosa che non si può descrivere questo è video di colori così ragazzi sapete i colori dei rioli ehi metti a fuoco dai aspetta eh facciamo così cappuccino delight comunque sempre la linea delight come vi pare belli 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 veramente belli cioè veramente 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 ragazze io stavo svenendo quando li ho visti sono rimasta a bocca aperta cioè una cosa cioè mi piacciono veramente tantissimo di questi anche ho preso sempre un'altra coppia da 14 mm e da 12 mm altre due coppie cioè ragazze io chiudo questo video sono stata velocissima credo spero chiudo questo video con la visione di questi fantastici svaroschi quindi mi ho detto i nomi così sapete precisamente come si chiamano e come cercarli su che nome cercarli cioè vi voglio mostrare ecco dall'alto ragazze veramente in video non rendono vera sicuro sono veramente fabolosi bellissimi e io ne sarò molto molto gelosa di questi svaroschi ve lo dico mancavano i biconi ma ovviamente ho fatto la scorta di riboli svaroschi per le svaroschi biconi sarà per la prossima volta comunque bene se il video vi è piaciuto vi raccomando mettetemi un like e vi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo fate e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche di tutti i miei video in modo da essere sempre aggiornate e a presto vi farò un tutorial e in preparazione un nuovo video tutorial e con questo vi saluto con queste meraviglie che mi sono arrivata oggi vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti ciao un bacione ciao ciao ciao